Sono Maiko Corleone. Sono qui per ringraziarvi perché fate parte di questa bella pagina. TV, sport e altro vintage. Restate con noi. Ci saranno molte sorprese. Vi faremo delle proposte che non potrete rifiutare, ma che vi rallegreranno la giornata. Ne sono sicuro. Questa pagina è una bomba e dentro da me è una garanzia. Vi saluto. Ciao a tutti da Maiko Corleone. E ancora grazie. Grazie.